Coach è un onore poterla intervistare, ci avete regalato lei e le sue ragazze delle emozioni incredibili, forse l'impresa sportiva dell'anno e questa sera la celebriamo anche ad Ascoli. Sì, un vero piacere essere comunque celebrati nelle Marche perché credo che ripensando un po' tutto il percorso, credo che al diario quello che è stato la mia formazione penso che essere nato nelle Marche sia stata una fortuna e quindi essere celebrato nelle Marche mi dà un gusto particolare e soprattutto penso che sia uno spunto poi per i giovani. Il fatto di poter avere una scintilla accesa come magari sono stati alcuni maestri per me nel passato. Obiettivo ora a Tokyo 2020 per migliorarsi ancora? Tokyo è un obiettivo però c'è una qualificazione in mezzo che sarà difficilissima e ovviamente è il nostro sogno arrivare alle Olimpiadi e giocarci una possibilità importante e abbiamo un giro di qualificazione veramente tosto e adesso siamo orientati giorno dopo giorno ad arrivare a quell'appuntamento al massimo della nostra forma.